Ok signori, un bel ritrovati, sempre non qui che vi parla, questo oggi è il giovedì, quindi sconti e soldi doppi, ta-na-na-na-na-na-na Allora, settimana dedicata ai veicoli speciali con, allora cominciamo sul podio, Drift Iosemite sul podio, benissimo Poi soldi per tre su guerriglia motorizzata che andrà avanti fino a fine maggio e gara al bersaglio che può essere interessante Dopodiché soldi per due sulle missioni veicoli speciali, quelle del CEO, quindi andate nel CEO, computer, fate le missioni Sono collegate a quanti veicoli rubate o recuperate per l'import-export, quindi buono che almeno fate una cosa, fate l'altra, magari le finite, qualche oretta di gioco, insomma Può andar bene, e le lotte tra business, 50% di sconto sulle munizioni speciali per le armi Mk2, ok 50% di sconto sul CEO, ufficio, buono, ma non c'è il magazzino in sconto, quindi delle macchine, quindi niente import-export in sconto 40% di sconto sulla limo con torretta, menacer, phantom wedge, tecnica l'acqua e il rimorchio antiaereo Poi 30% di sconto sul Karakara, Doomfav e Gauntlet Hellfire, punto Se voi vi chiedete come fare soldi questa settimana, allora come far soldi lo sapete Che cosa posso fare di diverso questa settimana? Provate chiaramente le gare al bersaglio, ma la cosa più divertente possono essere le missioni dei veicoli speciali Perché come vi dicevo sono collegate a quanti veicoli rubate nell'import-export, quindi dovete recuperare questi Che a sto punto vendete con l'import-export, quindi fate un po' di soldini, ci vuole un po' di tempo E a sua volta però poi sbloccate le missioni e le fate Per i veicoli import-export fatevi una sessione in solitaria Fatevela con l'MTU, se funziona ancora o cose del genere Perché ho notato che nell'ultimo periodo le sessioni si sono riempite di cagacazzo Non so, pieno di gente che ti fa saltare in aria così Non c'è niente da fare D'altone non c'è niente da fare su GTA e li posso capire Anche se io piuttosto preferisco non giocare Questa è la settimana, non c'è niente di incredibile Qualcuno mi chiede per aggiornamenti, scordatevi di fino a luglio barra agosto Quindi se avete già il personaggio lanciato oltre al rango 70, 80, 100 Potete anche smettere di giocare al momento, tanto non ci sarà niente di incredibile Hanno aggiornato Prime Gaming e semplicemente hanno aggiunto l'80% di sconto per la Jugular e la Stafford E il 35% di sconto sul Veto Modern che è il Go-Kart, dovrebbe essere Ok? Quindi vi ringrazio per essere rimasti con me Noi ci vediamo in live, vi ricordo che al momento sto streamando 3 giorni a settimana Visto l'aggiornamento di Fall Guys potrei streamare un po' di più E poi quando sarei stati tornare alle matutine Dai vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima 3, 2, 1, aloha!